Le tre piume. Il figlio minore come sempliciotto. Nelle fiabe il numero tre sembra spesso riferirsi a quelli che in psicanalisi sono visti come i tre aspetti della mente, es, io e superio. Ciò può essere in parte confermato da un'altra delle storie dei fratelli Grimm, le tre piume. In questa fiaba non è tanto la divisione tripartita della mente umana ad essere simboleggiata, quanto la necessità di familiarsi con l'inconscio, imparando ad apprezzarne i poteri e a sfruttarne le risorse. L'eroe delle tre piume, benché considerato stupido, risulta vittorioso perché fa così, mentre i suoi competitori si affidano all'intelligenza e rimangono fissati alla superficie delle cose e si rivelano come quelli che si sono comportati da stupidi. La loro delisione del fratello sempliciotto, quello rimasto vicino alla sua base naturale, seguita dalla sua vittoria su di loro, suggerisce che una coscienza che si sia separata dalle sue fonti inconsce si porta fuori strada. Il tema fiabesco del bambino maltrattato e respinto dai fratelli maggiori è notissimo in tutte le epoche storiche, soprattutto nella forma di cenerentola. Ma le storie imperniate su un bambino stupido, che hanno come esempi i tre linguaggi e le tre piume, hanno un senso diverso. L'infelicità del bambino tardo, che il resto della famiglia tiene in scarsa considerazione, non viene menzionata. Che sia considerato stupido e dichiarato come un fatto della vita, che non sembra preoccuparlo granché. A volte si ha l'impressione che il sempliciotto non si dia pena della propria condizione, dato che in questo modo gli altri non si aspettano nulla da lui. Queste storie incominciano quando la vita senza scosse del sempliciotto è interrotta da una nuova esigenza, come quando il conte manda suo figlio fuori di casa per ricevere un'istruzione. Le innumerevoli favole dove l'eroe è da prima presentato come un sempliciotto richiedono una spiegazione della nostra tendenza a identificarsi con lui molto prima che si riveli superiore a coloro che lo disprezzano. Un bambino piccolo, per quanto possa essere intelligente, si sente stupido e inadeguato quando si trova di fronte alle complessità del mondo che lo circonda. Chiunque sembra saperla tanto più lunga di lui ed essere tanto più capace, è per questo che molte fiabe si aprono con l'eroe che viene disprezzato e considerato stupido. Questi sono i sentimenti del bambino nei confronti di se stesso, sentimenti che sono proiettati non tanto nel mondo in generale, ma nei suoi genitori e fratelli maggiori. Anche quando in certe fiabe come Cenerentola ci viene detto che la bambina visse beata finché la sventura non si abbattesse di lei, questo periodo non è mai descritto come uno in cui la fanciulla fosse competente. Essa era felice perché nessuno si aspettava niente da lei. A tutte le sue necessità provvedevano gli altri. L'inadeguatezza di un bambino piccolo che li induce a temere di essere stupido non è colpa sua. Quindi la fiaba che non spiega mai perché il bambino è considerato stupido è psicologicamente corretta. Per quanto concerne la coscienza di un bambino nulla è successo durante i suoi primi anni perché nel normale corso degli eventi il bambino non ricorda nessun conflitto interiore prima che i genitori avanzino specifiche richieste che contrastino con i suoi desideri. È in parte motivo di queste richieste che il bambino prova sentimenti di conflitto col mondo e l'interiorizzazione di queste richieste contribuisce alla formazione del superio e alla consapevolezza dei conflitti interiori. Di conseguenza questi primissimi anni sono ricordati come liberi da conflitti e beati ma vuoti. Ciò è rappresentato nelle fabole del fatto che non succede nulla nella vita del bambino finché egli non si risveglia ai conflitti fra lui e i suoi genitori e anche ai conflitti interiori. La condizione di sempliciotto suggerisce uno stadio indifferenziato d'esistenza che precede le lotte fra l'essi, l'io e il superio della personalità complessa. Al livello più semplice e più diretto le fiabe dove l'eroe è il più giovane e il più inetto offrono al bambino la consolazione e la speranza per il futuro di cui ha maggiormente bisogno. Benché il bambino abbia uno scarso concetto di se stesso, un'idea che proietta nella concezione che gli altri hanno di lui e tema che non riuscirà mai a farsi valere, la storia mostra che egli ha già avviato il processo di realizzazione delle sue potenzialità. Quando il figlio impara il linguaggio dei cani e in un secondo tempo degli uccelli e delle rane nei tre linguaggi, il padre vede in ciò soltanto una chiara indicazione della stupidità di suo figlio, ma in realtà questi ha compiuto importantissimi passi verso la conquista di una propria personalità. L'esito di queste storie, dice al bambino, è colui che è stato considerato da se stesso e dagli altri come meno capace, sopravvanzerà malgrado ciò tutti quanti. Un tale messaggio può risultare convincente attraverso una ripetuta narrazione della storia. La prima volta che un bambino ascolta una storia con un eroe stupido può non essere in grado di permettersi di identificarsi con lui per quanto si senta egli stesso stupido. Ciò sarebbe troppo allarmante, troppo contrario al suo amor proprio. Soltanto quando il bambino si sente completamente sicuro della dimostrata superiorità dell'eroe, mediante ripetuti ascolti della storia, può permettersi di identificarsi con l'eroe fin dall'inizio. E soltanto sulla base di tale identificazione, la storia può incoraggiare il bambino facendogli capire che la sua scarsa stima di se stesso è ingiustificata. Prima che tale identificazione si verifichi, la storia significa poco per il bambino come persona, ma quando il bambino giunge a identificarsi con l'eroe stupido o disprezzato della fiaba, sapendo che alla fine egli dimostrerà la sua superiorità, anche lui può avviare il processo di realizzazione della sua potenzialità. Il brutto anatroccolo di Hans Christian Andersen è la storia di un uccello che da piccolo viene disprezzato, ma che alla fine dimostra la propria superiorità a tutti coloro che l'hanno deriso e schernito. La storia contiene anche l'elemento dell'eroe, come il più giovane e l'ultimo nato. Infatti tutti gli altri anatroccoli hanno rotto i loro gusci e sono usciti dal mondo prima di lui. Come la maggior parte delle storie di Andersen, anche questa, per quanto affascinante, è molto di più di una storia per adulti. Piace anche ai bambini, naturalmente, ma non è giovevole per loro, anche se li diverte, fuorvia la loro immaginazione. Il bambino che si sente incompreso e non apprezzato può desiderare di appartenere a una famiglia diversa, ma sa che le cose non stanno così. La sua possibilità di successo nella vita non consiste nel diventare un essere di diversa natura, così come l'anatroccolo, crescendo si trasforma in un cigno, ma nell'acquisire migliori qualità e nel comportarsi meglio di quanto gli altri si aspettino, mantenendo la stessa natura dei suoi genitori. Nelle vere fiabe troviamo che quali e quante possano essere le trasformazioni subite dall'eroe, compresa la metamorfosi in un animale o addirittura in un sasso, alla fine egli è sempre un essere umano, come lo era all'inizio. Incoraggiare il bambino a credere di essere di una stirpe diversa, per quanto l'idea possa piacergli, può condurlo in una direzione opposta a quella suggerita dalle fiabe. Esse tendono infatti a convincerlo che deve fare qualcosa per conquistare la sua superiorità. Nessun bisogno di fare qualcosa è espresso nel brutto anatroccolo. Tutto è semplicemente stabilito dal fato e si svolge di conseguenza, indipendentemente da quello che l'eroe fa o non fa, mentre nelle fiabe è l'operato dell'eroe a trasformare la sua vita. Che il destino sia inesorabile, una deprimente visione del mondo, è chiaro sia nel brutto anatroccolo, col suo esito positivo, sia nel triste finale della piccola fiammiferaia di Andersen. Una storia molto commovente che tuttavia difficilmente si presta a una identificazione. Il bambino che si sente infelice può in effetti identificarsi con questa eroina, ma in tal caso il risultato è il completo pessimismo e il disfattismo. La piccola fiammiferaia è una storia moralistica sulla crudeltà del mondo e suscita compassione per gli oppressi, ma ciò di cui il bambino che si sente calpestato ha bisogno non è la compassione per gli altri che si trovano nella stessa situazione, ma piuttosto la convinzione che egli può sfuggire a questo destino. Quando l'eroe di una fiaba non è figlio unico ma ha parecchi fratelli e quando è fin dall'inizio il più inadeguato, il più bistrattato, benché alla fine sorpassi di molto coloro che inizialmente erano superiori a lui, è quasi sempre il terzo figlio. Ciò non rappresenta necessariamente la rivalità fraterna del fratello minore. Per questo un qualsiasi numero andrebbe bene. La gelosia è altrettanto acuta in un figlio più grande, ma dato che ogni bambino certe volte si vede come il membro meno importante della famiglia, nella fiaba ciò è suggerito dal fatto che è il più piccolo o il meno apprezzato o entrambe le cose. Ma perché è così spesso il terzo? Per comprenderne il motivo dobbiamo considerare ancora un altro significato del numero tre nelle fiabe. Cenerentola viene mortificata dalle sue due sorellastre che la costringono ad assumere non solo la posizione più umile ma anche la terza in ordine di importanza. È lo stesso per l'eroe delle tre piume ed innumerevoli altre fiabe dove l'eroe inizialmente è l'ultima ruota del carro. Un'altra caratteristica di queste storie è che gli altri due fratelli sono scarsamente differenziati tra loro, essi si comportano nello stesso modo e si assomigliano fisicamente. Sia a livello inconscio che a livello conscio i numeri rappresentano persone, situazioni familiari e parenti. Noi siamo perfettamente consapevoli, consciamente, che uno rappresenta noi stessi in rapporto al mondo, come è dimostrato per esempio del fatto che in inglese gergale number one, numero uno, significa se stesso, due significa una coppia, come in un rapporto amoroso o matrimoniale. Due contro uno vuol dire essere superato slealmente o anche senza speranza in una competizione. Nell'inconscio e nei sogni uno può rappresentare se stesso, come fa nella nostra mente conscia, oppure soprattutto per i bambini, il genitore dominante. Per gli adulti uno si riferisce anche alla persona che detiene del potere su di noi come principale. Nella mente del bambino due rappresenta spesso i due genitori, ma non i suoi fratelli. È sempre per questo che, quale che sia la posizione del bambino tra i fratelli, il numero tre si riferisce a se stesso. Quando in una fiaba un bambino è il terzo, l'ascoltatore si identifica facilmente con lui perché all'interno della più tipica costellazione familiare il bambino è il terzo componente, sia egli il maggiore, il mediano o il minore dei fratelli. Sorpassare il due significa, nell'inconscio, eccellere sui propri genitori. In rapporto ai suoi genitori il bambino si sente maltrattato, insignificante, trascurato. Superarli significa diventare padrone di se stesso, più di quanto potrebbe significarlo il trionfo su suo fratello. Ma dato che è difficile per il bambino ammettere di fronte a se stesso quanto sia grande il suo desiderio di superare i propri genitori, nella fiaba questo sentimento è cammuffato come il superamento dei due fratelli che tanto lo disprezzano. Soltanto stabilendo un paragone con i genitori, ha senso che il terzo, cioè il bambino, sia all'inizio così incompetente o pigro, un sempliciotto. È soltanto in rapporto ad essi. Egli passa rapidamente in prima posizione quando diventa grande. Il bambino può riuscire in questo soltanto se viene aiutato, ammaestrato e incoraggiato da una persona più grande, così come si può superare il livello dei genitori grazie all'aiuto di un insegnante adulto. Nei tre linguaggi questo è reso possibile dai tre maestri dimoranti in città straniere. Nelle tre piume è un vecchio rospo, assai simile a una nonna che aiuta il figlio minore. Le tre piume comincia così. C'era una volta un re che aveva tre figli. Ve l'andate a vedere sul link che vi metto qui sotto dove è raccontata la favola per intero. Quello di soffiare una piuma in aria e di seguirla quando si è indecisi sulla direzione da seguire è un antico costume germanico. Molte altre versioni di questa storia, come varianti greche, slave, finniche e indiane, parlano di tre frecce tirate in aria per determinare la direzione in cui i fratelli dovrebbero dirigersi. Oggigiorno non ha molto significato che il re decida la sua successione in base a quale dei suoi figli porterà a casa il tappeto più bello, ma anticamente tappeto era anche il nome dato ai più intricati lavori di tessitura e le parche intessevano la rete che decideva il destino dell'uomo. Così in certo senso il re disse che fossero le parche a decidere. Addentrarsi nelle tenebre della terra rappresenta una discesa agli inferi. Sempliciotto intraplende questo viaggio nell'interiorità, mentre i suoi due fratelli vagano alla superficie. Non sembra azzardato interpretarlo come la storia di Sempliciotto che si accinge a esplorare la sua mente inconscia. Questa possibilità fu suggerita proprio all'inizio della storia, che oppone all'intelligenza dei due fratelli l'ingenuità e la taciturnità di Sempliciotto. L'inconscio ci parla per immagini piuttosto che a parole, ed è semplice quando venga confrontato con le produzioni dell'intelletto. E, come Sempliciotto, è considerato l'aspetto meno nobile della nostra mente, se paragonato all'io e al superio. Ma quando viene usato bene, è la parte della nostra personalità da cui traiamo la nostra massima forza. Sempliciotto discende le scale, arriva davanti a una porta che si apre da sola, entra in una stanza dove siede un grosso e obeso rospo circondato da rospi piccoli. Il rospo grosso gli chiede cosa vuole. Sempliciotto risponde chiedendogli il tappeto più bello che gli viene dato. In altre versioni è un altro animale che fornisce a Sempliciotto quello che gli serve, ma è sempre un animale e ciò suggerisce che quanto permette al Sempliciotto di avere la meglio sia il suo affidarsi alla natura animale, alle semplici e primitive forze all'interno di noi. Il rospo è percepito come un animale sgraziato, una creatura da cui normalmente non ci aspetteremmo prodotti raffinati. Ma questa natura terrena, quando è bene usata per gli scopi più elevati, si rivela di gran lunga superiore alla superficiale intelligenza dei suoi fratelli, che prendono la via facile rimanendo alla superficie delle cose. Com'è consueto in storie di questo tipo, gli altri fratelli non sono minimamente differenziati tra loro. Agiscono in modo così simile che ci si può chiedere perché non ne basti uno solo perché la storia funzioni ed esprima la sua morale. A quanto pare la loro mancanza di differenziazione è essenziale perché simboleggia il fatto che le loro personalità sono indifferenziate. Per imprimere bene questa idea nell'ascoltatore è necessario più di un solo fratello. I fratelli agiscono soltanto basandosi su un io molto svuotato, già che è separato dalla fonte potenziale della loro forza e ricchezza, l'es. Ma essi sono anche privi di superiore, non hanno il minimo senso delle cose più elevate e si accontentano di imboccare la via facile. La storia dice, ma gli altri due avevano giudicato il loro fratello minore così stupido che pensarono che non avrebbe trovato e portato con sé niente. Perché dovremmo darci tanto da fare per cercare, dissero, e presero dei ruvidi stracci dalle mogli dei primi pastori che incontrarono e li portarono al re. Quando il fratello minore ritorna contemporaneamente al castello col suo meraviglioso tappeto, il re rimane di stucco e dice che il regno spetta di diritto a Sempliciotto. Gli altri protestano e chiedono un'altra prova. Questa volta vincerà chi tornerà con l'anello più bello. Di nuovo le tre piume vengono sollevate in aria con un soffio e volano esattamente nelle stesse direzioni della prima volta. Sempliciotto riceve dal rospo uno splendido anello e vince perché i due fratelli maggiori derisero Sempliciotto per il suo tentativo di trovare un anello non si impegnarono affatto ma schiodarono un anello da una vecchia carrozza e lo portarono al re. I due fratelli maggiori tormentano il re finché acconsente a una terza prova. Questa volta vincerà chi dei tre porterà con sé la donna più bella. Il precedente corso di Aventi si ripete ma questa volta c'è una differenza per quanto concerne Sempliciotto. Egli discende come prima dal rospo grosso e gli dice che dovrebbe portare al castello la donna più bella. Adesso però il rospo non gli consegna semplicemente quanto richiesto come aveva fatto prima. Gli dà invece una rapa gialla svuotata a cui sono attaccati confinimenti sei topolini. Sempliciotto chiede tristemente cosa dovrebbe farne anche il rospo grosso risponde basta che ci metti dentro uno dei miei rospetti. Allora Sempliciotto prende uno dei piccoli rospi raccolti in cerchio e lo introduce nella rapa gialla. Non appena il rospetto viene messo a sedere nella rapa si trasforma in una fanciulla di celestiale bellezza. La rapa diventa una carrozza e i topolini diventano cavalli. Sempliciotto l'abbraccia e la porta dal re. Tornarono anche i suoi fratelli. Loro non si erano dati da fare e avevano portato con sé le prime forosette che avevano trovate. Quando il re le vide disse dopo la mia morte il mio regno andrà a mio figlio minore. Gli altri due fratelli protestano di nuovo e suggeriscono che ciascuna delle tre donne portate a casa da loro tre salti attraverso un ampio cerchio appeso nel salone perché sono convinti che l'eterea fanciulla trovata da Sempliciotto non sia capace di farlo. Le contadinote portate dai due sono maldestra e si fracassano le ossa mentre la splendida ragazza che Sempliciotto si è procurato grazie al rospo salta agevolmente attraverso il cerchio. A questo punto ogni opposizione deve cessare. Sempliciotto ricevette la corona e regnò a lungo e con grande saggezza. I due fratelli che vagarono alla superficie trovarono soltanto cose grossolane nonostante tutta la loro presunta intelligenza. Ciò suggerisce le limitazioni di un intelletto che non si basi sul potere dell'inconscio, i vinclusi sia l'ess che il superio, e non ne sia sostenuto. La straordinaria frequenza con cui il numero tre compare nelle fiabe è già stata discussa, così come è stato analizzato il suo possibile significato. In questa storia essa è posta in risalto ancor più che nelle altre. Ci sono tre piume, tre fratelli, tre prove da superare, con l'aggiunta di una quarta variante. Ho già indicato quali potrebbero essere alcuni significati del magico tappeto. La storia dice che il tappeto portato a casa da Sempliciotto era più splendido di qualsiasi tappeto che avesse potuto essere tessuto sulla terra e che l'anello era tempestato di anelli sfavillanti ed era così bello che non avrebbe potuto essere stato fabbricato da nessun orafo di questa terra. Quindi quelli che Sempliciotto riceve non sono oggetti ordinari ma capolavori eccezionali. Basandoci ancora una volta sulle intuizioni della psicanalisi potremmo dire che l'inconscio è la fonte dell'arte, la sorgente da cui essa scaturisce, che sono le idee del superio a plasmarla e che sono le forze dell'io che interpretano le idee inconsce e consce che entrano nella creazione di un'opera d'arte. Così in un certo senso questi oggetti artistici significano l'integrazione della personalità, la grossolanità di quello che i due fratelli intelligenti portano a casa da risalto a un confronto al valore artistico degli oggetti presentati da Sempliciotto nei suoi sforzi per riuscire nelle varie imprese. Nessun bambino che rifletta sulla storia può fare a meno di chiedersi perché i fratelli che alla fine della prima prova videro che Sempliciotto non andava sottovalutato, non si impegnarono di più la seconda e la terza volta. Ma ben presto il bambino si rende conto che questi fratelli, per quanto intelligenti, non erano capaci di trarre ammaestramento dall'esperienza. Separati dal loro inconscio, non erano in grado di evolversi, di apprezzare le cose più belle della vita, di rendersi conto delle differenze qualitative. Le loro scelte furono indifferenziate come le loro stesse persone. Il fatto che erano intelligenti e nonostante ciò non si regolarono meglio la volta successiva, simboleggia la loro sorte di rimanere alla superficie dove nulla di grande valore può essere trovato. Per due volte il grosso rospo obeso consegna a Sempliciotto quello che gli serve. Discendere nell'inconscio ed emergerne con quanto vi si è scoperto è molto meglio che restare alla superficie come fecero i fratelli. Ma non basta. È per questo che sono necessarie diverse prove. Familiarizzarsi con l'inconscio, cioè con le forze oscure all'interno di noi, sotto la superficie, è necessario ma non sufficiente. Bisogna aggiungervi l'azione fondata su tali intuizioni. Noi dobbiamo affinare e sublimare il contenuto dell'inconscio. È per questo che la terza e ultima volta lo stesso Sempliciotto deve scegliere uno dei piccoli rospi. Sotto le sue mani la rapa si trasforma in una carrozza, i topi diventano cavalli. E come molte altre fiabe, quando l'eroe abbraccia, cioè ama il rospo, esso si trasforma in una splendida ragazza. È in ultima analisi l'amore, che trasforma anche le cose più brutte in qualcosa di meraviglioso. Siamo soltanto noi stessi che possiamo tramutare il primordiale, rozzo e più mediocre contenuto del nostro inconscio, rapi, topi, rospi, nei più raffinati prodotti della nostra mente. Per finire, la fiaba suggerisce che limitarsi a ripetere le stesse cose con qualche variazione non è sufficiente. È per questo che dopo le tre analoghe prove in cui le tre fiume volano in direzioni diverse, a rappresentare il ruolo che il caso svolge nella vita di ciascuno di noi, si rende necessaria una nuova e diversa impresa, non affidata al caso. La capacità di saltare attraverso il cerchio è una questione di talento. Dipende da una dote personale e si differenzia da quello che un individuo può trovare con un'attiva ricerca. Limitarsi a sviluppare la propria personalità in tutta la sua ricchezza, o rendere le fonti vitali dell'inconscio accessibili all'io, non è sufficiente. Bisogna anche essere capaci di servirsi della propria abilità in modo accorto, con grazia e con risultezza. La bellezza della fanciulla che salta così bene attraverso il cerchio non è che un altro aspetto di sempliciotto, così come le volgarie sgraziate donne sono altri aspetti dei fratelli. Ciò è suggerito dal fatto che non si fa più nessun accenno a lei. Sempliciotto non la sposa, perlomeno non ne siamo informati. Le ultimissime parole della fiaba contrappongono la saggezza con cui sempliciotto regna all'intelligenza dei due fratelli con cui si apre la storia. L'intelligenza può essere un dono di natura, è l'intelletto indipendentemente dal carattere. La saggezza è la conseguenza della profondità interiore, di conseguenza di esperienze pregnanti che hanno arricchito la vita della persona, un riflesso di una personalità ricca e bene integrata. I primi passi verso l'acquisizione di questa personalità bene integrata sono compiuti quando il bambino comincia a lottare con i suoi profondi e ambivalenti attaccamenti ai genitori, cioè quando cominciano i suoi conflitti ed ipici. In rapporto ad essi, inoltre, le fiabe aiutano il bambino a comprendere meglio la natura della sua situazione e offrono idee che gli danno il coraggio di lottare con le sue difficoltà e di rafforzare le sue speranze in una loro felice risoluzione.